O ragioni avvocate Oggi manca, la volta scorsa mancavo io, oggi manca il collega avvocato Bastetti trattenuto in tribunale per impegni professionali ma la sua aura è comunque qui con noi e è come se fossimo in due a dare il benvenuto e il ringraziamento al nostro ospite di oggi qualcuno l'avrò già anche riconosciuto, è il dottor Federico D'Andrea attuale presidente dell'ordine dei medici degli odontoiatri di Novara amico da tanti anni, presidente grazie di essere venuto grazie a voi per l'invito anche perché abbiamo tra le tante cose, noi abbiamo pochi minuti nella nostra trasmissione 13-15 minuti ma saranno sufficienti per chiarire ai nostri ascoltatori di Videonovara e di tutte le emittenti collegate a Odion TV una situazione che si è verificata un po' più, direi, pregnantemente negli ultimi tempi e che cioè una sorta di pubblicità di volantino diffuso a Novara ma credo anche in altre città che si intitola vittima di un episodio di mala sanità, punto di domanda rivolgiti a noi, potrai risolvere i tuoi dubbi, far valere il tuo diritto al risarcimento non sosterrai i costi, in caso di esito negativo non pagherai nulla, chiamaci, eccetera, eccetera tutte promesse che forse andrebbero valutate con maggiore cautela da parte mia, negli anni in cui sono stato e sono consulente dell'Associazione per la tutela dei diritti del malato non il Tribunale per i diritti del malato, l'associazione che spesso ha collaborato anche con l'ospedale posso dire che in casi di necessità abbiamo sempre avuto una situazione di dialogo e risoluzione dei casi tramite le vie stragiudiziali ma qui, Presidente, si propone un po' un pugno nello stomaco una sorta di soluzione quasi magica che cosa abbiamo fatto nei nostri due ordini, cioè il suo ordine e il nostro? Ce lo vuole illustrare? Certo, intanto vi ringrazio per l'invito, direi molto appropriato perché questo è un problema che pesa ormai da anni sulla classe medica ma soprattutto negli ultimi anni direi che ha dato adito a delle problematiche veramente importanti, serie basti pensare, per esempio abbiamo dei dati che credo ognuno di noi può tirare via tirare giù da internet le cause mediche, diciamo, sono passate dalle 3-4 mila all'anno delle fine anni 90 a 15 mila dei dati attuali che peraltro non sono recentissimi ma di qualche anno fa quindi oggi saranno anche di più anche di più sicuramente però a fronte di questo dato che fa pensare perché uno potrebbe anche ritenere a questo punto che la medicina si sia decisamente scaduta e quindi ci siano dei professionisti molto meno bravi di quelli che erano una volta ma evidentemente non è così se poi è anche vero che l'80, oltre 80% dei procedimenti finisce nell'archiviazione quindi parliamo dei procedimenti penali Penali, certo quindi per lesioni colpose Esatto Quindi da questo però scaturisce tutta una serie di problematiche per la nostra categoria che si riassumono sostanzialmente nella diffusione della cosiddetta medicina difensiva Il medico ha sempre più timore di sbagliare ma soprattutto di essere perseguito per delle situazioni che poi si verificano appunto non perseguibili o comunque non colpose ma questo poi sono termini che tu e lei mi correggerà meglio ecco ma questo comporta il fatto che però purtroppo certe volte il medico non fa quello che dovrebbe fare quindi si astiene da fare tutta una serie di procedure E' come se questa situazione di minaccia l'incombesse e lo paralizzasse Esatto Per cui ovviamente poi chi paga alla fine è sempre il paziente che si vede un po' privato di quello che può essere un trattamento medico completo e magari definitivo e quindi questa situazione ci ha spinto un po' proprio alla luce di quello che lei ha riportato ricordato del volantino questa diffusione di pubblicità che viene fatta non solo tramite volantini proprio porta a porta ma addirittura su manifesti che si vedono dappertutto su pubblicità che sono comparsi in televisione televisioni nazionali per cui l'ordine nazionale è già intervenuto in questo senso e chiaramente ci ha spinto a fare qualcosa a mettere un po' i puntini sugli e avvisare un po' anche i consumatori i clienti, i pazienti che In effetti, scusi se interrompo ci sono appunto manifesti che assimilano anche di altre associazioni consumatore al paziente proprio per quello ecco perché che è tutta una sorta di un po' di consumismo ecco quindi con questa consumatorismo ecco con questa così ottica un po' ottica di questo tipo cercando di far vedere un po' questo miraggio della facile del facile rimborso diciamo della facile del facile ottenimento magari di un qualcosa anche di un qualcosa di economico che ovviamente spinge molti soprattutto in in periodo di crisi come questi a perseguire comunque questa via e per questo abbiamo avuto ci siamo rivolti ovviamente in primis agli avvocati con cui ovviamente sempre collaboriamo e abbiamo avuto dall'ordine degli avvocati un'ottima risposta da parte del Presidente in primis e da tutti gli avvocati che è stato anche ospite di questa dimissione e quindi abbiamo abbiamo prodotto questo documento comune che è stato mandato a tutti gli iscritti dei due ordini e verrà pubblicato anche a breve sui quotidiani locali ecco visto che lei ha parlato appunto di questo tipo di pubblicità pubblicizzazione avete anche in programma magari di rispondere allo stesso modo cioè con una campagna pubblicitaria sì ci sono così allo studio un po' di un po' di iniziative che tendono sostanzialmente soprattutto e questa è stata un po' l'ottica che ha informato un po' il mio la mia gestione ecco che è iniziata due anni fa e che ha voluto aprirsi in modo nel modo più ampio diciamo alla popolazione e questo è sicuramente uno scopo che dobbiamo perseguire cioè quello di far capire alla popolazione come possa essere fuorviante un messaggio di questo tipo e pur tenendo ovviamente presente che noi non siamo assolutamente a difendere il professionista che sbaglia il professionista che sbaglia deve essere perseguito giustamente però ecco forse c'è un modus in rebus ecco bisogna un po' infatti nel comunicato che le ha contribuito a stilare si legge non è in discussione il diritto di chi si sente danneggiato a procedere per vie legali quanto la volontà per puri fini commerciali di creare false aspettative e false illusioni nei pazienti e nel contempo di mettere all'agonia la professione medica nel suo genere quindi mi consenta questa situazione di risposta ai nostri ascoltatori lei ha detto giusto ma ci sono anche casi in cui il professionista o la situazione medica può sbagliare ma allora qual è in questo caso la giusta via da percorrere? Una via sicuramente può essere quella di rivolgersi all'ordine l'ordine è comunque uno strumento che serve anche per tutelare non solo il professionista ma anche il cittadino e poi ci sono dell'ordine anche degli avvocati quindi dei professionisti seri che possono aiutare che possono portare una parola diciamo di equilibrio in un discorso di questo tipo che in genere è molto in genere è molto complesso ecco per cui non è sempre facile ovviamente andare a vedere tutti gli aspetti e capire fino a che punto esista veramente la colpa o la colpa grave eccetera anche perché poi insomma le discussioni sono da fare quando si arriva eventualmente o in dibattimento o in giudizio e saranno demandate alla professionalità di periti nominati dalle parti ma anche soprattutto dal tribunale periti super partes quindi il discorso è un po' quello mi si consenta il paragone io sono appassionato di cinema ricordo molti anni fa un film molto bello ma drammatico non si uccidono così anche i cavalli in cui negli anni della grande depressione si organizzavano in America queste maratone di danza dove si promettevano dei premi che poi alla fine agli sfiniti danzatori non venivano neanche consegnati perché in sostanza quasi non esistevano l'incasso c'era ma e allora ecco a questo proposito quando una persona dovesse sentirsi in qualche modo danneggiata può comunque rivolgersi con fiducia anche d'accordo agli avvocati all'ordine ma anche c'è un organo deputato a questo mi pare in ospedale qui a Novara che è forse l'URP scusate l'URP sì sì ci sono un primo filtro diciamo viene fatto da questo e quindi una segnalazione di quello che è avvenuto e che a detta del paziente può essere stato di danno e quello può essere già un primo filtro e certamente l'azienda ospedaliera se si tratta di ospedale in questo caso parliamo molto più frequentemente di ospedale ha tutto l'interesse a venire incontro ad una situazione diciamo di questo tipo senza neanche arrivare poi magari alla oggi c'è anche la mediazione la mediazione senza arrivare è un organismo che insomma una modalità che ha dato da discutere a molti anche noi avvocati poi all'inizio c'è stata per qualche mese poi è stata dichiarata anticostituzionale poi è ritornata come vedete questo organismo di mediazione che dovrebbe comunque essere ancora un ulteriore filtro positivo prima di arrivare alla causa in giudizio parli cause civili io in effetti me ne sono occupato inizialmente quando ero vicepresidente dell'ordine proprio all'inizio di questa vicenda abbiamo avuto anche diverse riunioni con gli avvocati con gli avvocati e poi c'è stata tutta questa trafila un po' complessa che lei ha ricordato ma io credo che come strumento sia uno strumento valido uno strumento positivo non vorrei che fosse però magari un doppione ecco per cui si 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 intraprende questa via per poi comunque arrivare in giudizio se non si è soddisfatti della situazione a volte la mediezione finisce negativamente come concetto di base mi sembra che possa essere positivo io all'inizio mi ero ripromesso di leggere brevemente qualche dato del suo curriculum e lo faccio adesso in maniera molto sobria ma una delle sue qualifiche la sua qualifica principale è proprio quello di essere specialista di dietetica nutrizione clinica lei ha scritto anche diverse opere ha partecipato a numerosi convegni corsi di aggiornamento è socio di diverse società la AD associazione dietologi italiani la SINPE società italiana nutrizione parenterale interale la ESPEN European Society of Parenteral and Enteral Nutrition però mi consento una domanda proprio personale mi sembra che in un campo come questo lei da tempo deve aver sperimentato la magia dei maghi o sbaglio assolutamente credo che non ci sia che non ci sia il nutrizionismo ramo della medicina che sia come questo così colpito diciamo da personaggi dalla presenza di personaggi assolutamente così fuori dal dal contesto ecco che pur tuttavia hanno un attraggono moltissimo persone che pensano di trovare il miracolo ecco la situazione miracolosa quindi i miracoli e le illusioni sono quelle che spingono la molla assolutamente allora noi direi siamo quasi in fine trasmissione ma abbiamo dato un accenno probabilmente poi avremo ospite ancora il presidente in altre occasioni perché comunque se ci sono delle domande che rimangono in evase le raccogliamo alla nostra facebook fanpage di O Ragione Avvocato oppure alla nostro indirizzo O Ragione Avvocato chiocciolalibero.it o ancora direttamente telefonando agli studi di Videonovara quindi noi ringraziamo il presidente Federico D'Andrea per essere stato con noi oggi e ci auguriamo che come sempre non l'inerzia ma la moderazione e la saggezza soprattutto nei problemi giuridici nei problemi di salute nei problemi che comunque comportano non miracoli ma attente di esamine e attente soluzioni anche voi ascoltatori sappiate comportarvi nel modo più opportuno evitando le facili illusioni e i facili illusionismi da Antonio Costa Barbè grazie a tutti e buona giornata grazie grazie